Questa scantola ha sicuramente le capacità e le doti per arrivare molto in alto, siamo una squadra giovane ma nonostante l'età riusciamo a competere con le squadre che hanno più esperienza, abbiamo tanta fame, lavoriamo duro in palestra tutta settimana, quindi speriamo che questo lavoro ripaghi sul campo e ci porti più in alto possibile. Resettare il K.O. di Riti già si pensa alla derby contro Sant'Antimo. Esattamente, il derby contro Sant'Antimo dobbiamo assolutamente rifarci dall'ultima sconfitta prenatalizia, anche loro appunto sono una squadra molto fisica, molto esperta, noi comunque abbiamo ancora più fame di prima rispetto alle tre vittorie e dobbiamo assolutamente recuperare. La Scandone può essere la sorpresa del campionato? Assolutamente sì, la Scandone può essere una sorpresa e appunto come ho già detto la nostra inesperienza diciamo dovuta alla tanta giovinezza è un punto di forza dal mio punto di vista, quindi assolutamente possiamo fare lo sgambetto a squadre che non se l'aspettano. Durante i match cosa vi chiede il coach De Gennaro? Lo vediamo sempre esplonarvi, sempre pronto a dare consigli. La prima cosa che ci chiede è avere tanta fame, nel senso avere grinta, voglia di lanciarsi sul pallone perché avendo quella viene da sé essere attenti, avere attenzione e restare concentrati con la testa, quindi la prima cosa che ci chiede è sempre appunto la fame, la grinta.